Come percepisci la scuola? Allora, la percepisco che è fantastica, nel senso che è spiegata molto bene, cioè io avevo bisogno appunto di essere accompagnata. Non so come fate stare dietro così tanto a tanti studenti perché comunque ci vuole veramente tanto tempo, cioè avete proprio una cura verso il singolo che è a parere straordinaria nella vera accezione di termini, cioè proprio fuori dall'ordinaria e questo è molto bello, ci si sente molto seguiti, quindi questo è molto importante e molto più confortante, soprattutto. Voi insegnate, cioè questo è quello che io ti insegno, è una scuola, è una scuola dove uno viene lì e impara, cioè non sono specchietti per le allodole, questo voglio dire. Se ne abbiamo tutti fatti tanti e quando non puoi, quando sei una giornata storta, ti lasci perdere di guardarli e quindi lasciano un po' il tempo che trovano, mentre così ci si aspetta che alla fine dei tre mesi comunque tu abbia assimilato tutto quello che c'è da sapere. Io non ho mai visto una cosa del genere. È bellissimo, cioè ti senti partecipe, ti senti proprio a casa, non so come dirti.